detto questo oggi come vi dicevo facciamo una piccola introduzione al raspberry quanti di voi qualcuno si ricordo lui giusto quanti di voi hanno già usato un raspberry a parte ovviamente lui ok perché voi siete affezionati al corso quindi ok va bene per tutti gli altri avete idea di cosa sia un raspberry al netto di questo ovviamente non ricordo se l'abbiamo già fatto questo discorso cos'è un raspberry se dovete classificare un raspberry come lo classifichereste computer circa qualcuno non è d'accordo chi è che dice microcontrollore no fuori computer il raspberry è sicuramente definibile come computer non è un microcontrollore perché microcontrollore tipicamente non hanno un sistema operativo ok il raspberry ha un sistema operativo il raspberry tipicamente può sopportare diversi sistemi operativi ma tipicamente tra gli altri ha un sistema operativo linux un microcontrollore che voi volete che voi potete comprare a poco volendo e provare è per esempio un arduino un arduino non ha un sistema operativo un arduino si programma il c e si carica il programma sopra l'arduino e tutto quello che fa l'arduino è quello che è dettato dal vostro programma ok per capirci quando è che voi qui usate un microcontrollore io sono quasi sicuro che quasi tutti o quasi tutti in questa università almeno una volta quando sono qua usano un microcontrollore per avere una bevanda la macchinetta del caffè ha un microcontrollore dentro per erogare il caffè possibilmente giusto e per erogare il resto possibilmente giusto ok quindi abbastanza velocemente e un raspberry pi è questa cosa qui che adesso provo ad aprire senza romper la scatola l'università ne ha 19 incluso questo che voi per questo corso questi sono già hanno già un sistema operativo installato hanno rasbian che una variante di debian per raspberry pi ed è la distribuzione diciamo ufficiale chiamiamola così questi raspberry si collegano automaticamente appena gli date la l'alimentazione alla rete wifi dell'ateneo ha un ipm n wifi non idurom e hanno un indirizzo ip fisso che è indicato sulla scatola sulla scatola a fianco sulla fianco della scatola c'è sempre scritto un identificativo rp 1 2 3 4 5 è un indirizzo ip della famiglia 172 27 96 100 qualcosa 160 161 e così via allora cosa c'è qui sopra su questa schedina c'è un processore a 64 bit da un gigahertz 2 arm un giga di ram a uno slot in raspberry pi 3 come questo per una micro sd e la micro sd contiene tutto il software tutto il sistema operativo incluso il sistema operativo ha il bluetooth 4.1 al wifi 802 11 n ha una porta ethernet 10 100 ha quattro porte usb di tipo 2 che possono che erogano fino a 500 milliampere quindi possono essere utilizzate per alimentare qualcos'altro poi hanno una porta hdmi sul lato un jack audio sia di input che di output ha dei led sul sul retro perché indicano se è acceso se alimentato se c'è con le connettività a ethernet tipicamente e se il disco la sd sta leggendo o scrivendo su disco quindi le operazioni su disco quindi tre led di feedback visuale sullo stato l'alimentazione viene data da un connettore micro sb potrebbe anche funzionare alimentato direttamente da un pc anche se tramite la porta usb anche se vabbè tecnicamente eccede la corrente massima fornita dall'osb oltre a queste porte standard ha una serie di pin una serie di una porta qui sopra che si chiama gpio general purpose input and output prego che può essere utilizzata per controllare altri dispositivi che può essere utilizzata per controllare altri dispositivi per esempio questa porta si può attaccare o delle schede di espansione oppure si può attaccare un arduino si possono attaccare dei led degli altri sensori e degli altri delle porte degli altri dispositivi poi ha una interfaccia seriale dedicata alla sua webcam che noi abbiamo ma che in questo caso non ci serve è una porta dedicata proprio e vabbè ha un core per la grafica 3d la gpio ha anche della corrente che passa quindi può essere utilizzata per alimentare appunto altre schede ma anche altri dispositivi esterni non ne ha tantissima e per la card micro sd consigliano una chi produce il raspberry consiglia una micro sd di almeno 8 giga e di almeno classe 6 e noi ne stiamo usando una da 16 giga di classe 10 quindi è ben oltre le requisiti minimi ma è diciamo sufficiente consigliabile usare almeno una classe 10 o di più per motivi di performance supporta diversi sistemi operativi come vi dicevo quello di chiamiamolo di default quello raccomandato ufficialmente è raspbian che è quello installato su questa su questi raspberry e che è basato su una distribuzione debian dopodiché c'è per esempio anche windows 10 e iot core che funziona su raspberry snappy.core pure e ci sono distribuzione per il media center basato su codi quindi per fare streaming audio video collegarlo a televisione eccetera e quando lo comprate nuovo tipicamente arriva con noobs su una schedina quando lo comprate nuovo con la schedina che sta per new out of the box software che è un software che vi guida durante l'installazione del sistema operativo senza questo software questa interfaccia grafica diciamo per l'installazione del sistema operativo e l'installazione di un sistema operativo su questa scheda se voi per esempio avete una scheda a casa e volete installarli un sistema operativo per esempio raspbian e raspbian viene fornito vabbè in un formato raw e quindi occorre duplicare ma non semplicemente copiare l'immagine raw sulla scheda ma bisogna farlo con dei tool specifici per esempio con dd sotto linux sotto mac o con win 32 dischi major sotto windows che prende l'immagine raw e la diciamo scompatta sulla schedina in base alla dimensione dell'immagine raw ed eventualmente poi permette oggi la giornata dei telefoni ed eventualmente permette anche poi di espandere l'immagine raw per il fine occupare tutto lo spazio sulla schedina per esempio l'immagine raw potrebbe essere da un giga ma avete una scheda da 16 e volete utilizzare tutti i 16 giga della scheda sd non solo un giga quindi prima di tutto si copia si espande l'immagine raw ma che occuperà per esempio un giga e poi però bisogna dire a linux guarda che tu non hai un disco da un giga tu ne hai uno da 16 quindi per favore espandi il sistema operativo espandi il file system per occuparli tutti e 16 in modo che possiate poi utilizzarli tutti e 16 quindi questo se doveste avere un raspberry se doveste comprare un raspberry senza nudes e se voleste installare una distribuzione linux quindi qui ci sono queste istruzioni il primo avvio diciamo è molto semplice di un raspberry si attacca all'alimentazione, si attaccano mouse, tastiera e monitor e si utilizza il nome utente di default di un raspbian appena installato è pi e la password di default è raspberry questi sono le credenziali anche di questi raspberry che abbiamo noi quindi per collegarvi userete sempre il nome utente password di default e il raspberry può anche essere utilizzato diciamo headless quindi attraverso SSH su questi raspberry il servizio SSH è già attivo quindi appena gli date l'alimentazione è possibile collegarsi da un qualunque computer o fisso o dei vostri portatili collegati ad un ipmn wifi non edurom al raspberry e quindi accedere alla linea di comando al terminale di linux questo servizio può anche non essere attivo sui raspberry appena comprati in questo lo è sempre con un utente password di default questo è il mini bignami sul raspberry e come vi dicevo è un computer è un computer con sistema operativo linux quindi ci si aspetta di utilizzarlo volendo anche come computer con sistema operativo linux e adesso faremo un diciamo un esercizio in cui prenderemo uno dei programmi lo spark rest server che abbiamo fatto l'altra volta in intellij senza modificarlo e lo metteremo su un raspberry bssh attraverso intellij perché ovviamente voi potete immaginare che se collegate questo a un vostro monitor ha una risoluzione a questi monitor ha una risoluzione tipicamente pessima e non è praticamente veloce rispetto a un computer normale quindi non si sviluppa direttamente sui raspberry tipicamente tipicamente si sviluppa da un'altra parte poi si fa il deploy sul raspberry il deploy si può fare copiando i file a mano perché no ma si può anche fare per esempio attraverso l'ambiente di sviluppo e facendo di fare il deploy in questo caso intellij ha un plugin che si può installare che prende il progetto prende tutte le dipendenze del progetto e fa il deploy dell'intero progetto dipendenze incluse sul raspberry e lo esegue da raspberry quindi io prima l'ho provato con un altro progetto adesso lo proviamo insieme con spark rest così vediamo se funziona allora rimonto il raspberry forse 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 Grazie. E mentre monti il raspberry possiamo aprire IntelliJ. Ok, allora. Allora, proviamo quindi a mettere questo progetto che è lo Spark REST server che abbiamo fatto qualche settimana fa, immodificato, su Raspberry. Quindi l'unica cosa che faccio è collegare il Raspberry all'alimentazione. Lui accende i led di stato, uno rimane rosso, l'altro lampeggia, a un certo punto il raspberry è pronto, si è acceso. Se voi collegate questo raspberry a un monitor avete non la linea di comando ma l'interfaccia grafica. Quindi potete usare il desktop, diciamo, del raspberry. Lo appoggio lì. Quindi prima di tutto controlliamo che il raspberry sia raggiungibile. Quindi devo essere da un IPMN Wi-Fi e mi servo un terminale un po' più grosso. Quindi proviamo a pingare questo raspberry. Questo raspberry è il raspberry 1 e ha l'indirizzo 172 27 96 160. Quindi lui viene pingato, quindi è attivo e risponde. Se volete potete anche collegarvi via SSH. 172 27 96 160. Esiste un tasto che si chiama silenzioso sul telefono, l'hanno fatto un po' di tempo fa, bisognerebbe usarlo. E' posseduto. Ok. Quindi si può collegarsi al raspberry, via SSH. La password è raspberry, quella di default. E a questo punto siete su raspberry e potete fare quello che volete. Per esempio uno può listare l'elenco dei file, delle directory nella home dell'utente Pi. Questi raspberry, molti di questi raspberry sono stati usati l'anno scorso, non tutti. E quindi quelli usati l'anno scorso avranno sicuramente i progetti dei vostri colleghi dell'anno scorso. E anche Java 8 installato. Quelli che non sono stati usati l'anno scorso, non hanno ovviamente i progetti dei vostri compagni dell'anno scorso. E non è detto che abbiano Java 8 installato. Quindi lo scopriamo. Quindi esco da questo SSH, quindi il raspberry funziona da raggiungibile. A questo punto come facciamo a mettere un qualunque progetto Java su un raspberry che ha già Java installato ovviamente. Allora IntelliJ vi dicevo ha un plugin che si può installare a delle preferenze, che si chiama Embedded Linux JVM Debugger. Il nome di questo plugin c'è anche su DIR con il link al sito diciamo al di fuori dal marketplace. Questo è un plugin che funziona per il raspberry ma non solo, che appunto permette di fare il deploy e l'esecuzione remota di un software Java tramite per esempio SSH. Quindi installiamo questo e facciamo ripartire l'ambiente di sviluppo che ripartirà con l'ultimo progetto che abbiamo aperto. Allora se noi eseguiamo il progetto, lui esegue run service e lo esegue ovviamente in locale e quindi sulla porta all'indirizzo localhost 4567 API versione 1 task ci sono come l'altra volta i task che vengono forniti dal nostro database. Quindi questo è il progetto, è il solito progetto, quello che abbiamo fatto qualche settimana fa, che continua a funzionare in modificato, adesso sta funzionando sul mio computer. Quindi adesso lo posso stoppare, appurato che funziona e voglio farlo girare sul raspberry. Come faccio a farlo girare sul raspberry? Devo andare o da questo menu dove c'è scritto task service e fare edit configuration oppure da run, dal menu run dove c'è edit configuration. Quindi bisogna andare in edit configuration. In edit configuration bisogna aggiungere una nuova configurazione dal tasto più. Perché? Perché a noi serve una configurazione non per eseguire normalmente il programma, ma serve una configurazione per utilizzare il plugin di deploy remoto. Quindi premendo più ci fa vedere tutti i tipi di configurazione che supporta, incluso questo Embedded Linux JVM, che è esattamente il nome del plugin. Selezionando Embedded Linux JVM ci crea una nuova scheda e questa nuova scheda ci chiede alcune informazioni per eseguire il run del nostro progetto, in questo caso da qualche parte. Questo è pensato per un Embedded Linux, ma di per sé chiede un username, una password e una URL o un IP per una macchina remota. Quindi ci chiede un nome, possiamo chiamarlo Raspberry, ma è un nome a scelta, ci chiede l'hostname e bisogna mettere l'indirizzo del Raspberry, quindi 172 27 96 160 nel nostro caso, la porta di debug che lui utilizza per fornirvi una funzionalità di debug remoto, si può lasciare quella di default, lo username della macchina remota, la password della macchina remota, la porta su cui in remoto gira il server SSH, che nel nostro caso è 22, si può anche eseguire il programma con privilegi di amministratore, a noi non interessa, e si può anche validare la connessione. Quindi non eseguire niente, ma solo dire ok, questo computer raggiunge con successo BSSH questa macchina, la macchina che noi vogliamo, in questo caso sì, viene scritto connection success, dopodiché dobbiamo indicare nella parte sotto quale modulo Java, in questo caso quale modulo Gradle e quale classe main Java vogliamo utilizzare per questo deploy, per questa esecuzione. Quindi, e qui possiamo indicare Spark REST main, non siamo interessati al test, a eseguire il test su remoto, e come classe main lui ci mostra tutte le classi main, le classi che implementano main nel nostro progetto, in questo caso non abbiamo una sola, ma se ne aveste più di una dovreste selezionare quella che volete eseguire da remoto. Quindi se voi voleste eseguire più progetti o più main separatamente, dovete creare semplicemente più configurazioni in questo stesso modo. Poi ci chiede se abbiamo delle opzioni per la macchina virtuale Java di destinazione, quindi quella remota, noi non ne abbiamo, e se il programma da eseguire richiede degli argomenti particolari, e nel nostro caso non ne richiede. Però, per esempio, se noi avessimo, all'avvio del programma chiedessimo su quale porta il server deve girare, potremmo indicarlo qui, la porta del server. Nel nostro caso non abbiamo nessun parametro da attivare. Quindi premiamo OK. Lui, questa nuova configurazione è disponibile a quel punto in questo menu, insieme a task service che esegue il server in locale, c'è anche quest'altro nuovo Raspberry. E se noi premiamo run a questo punto, lui apre una console, e lasciamolo fare, poi vi racconto cosa fa, e lui fa alcune cose. Allora, prima di tutto fa tre passi. Prima di tutto fa il deploy sul Raspberry. Dove fa il deploy? Fa il deploy nella home, in questo caso nella Pi, in una cartella che si chiama Idea Projects. Quindi sul vostro Raspberry, dopo questa esecuzione, troverete una cartella che si chiama Idea Projects, dove dentro ci sono gli eseguibili, diciamo, del vostro progetto. Quindi potete, a questo punto, eseguire direttamente il progetto Java da Raspberry, se siete collegati al Raspberry. Quindi crea la cartella, poi inglover entra nella cartella, se c'è qualcosa nella cartella, la svuota, in modo da partire sempre con le nuove classi. A questo punto, dopo che ha preparato e svuotato le cartelle, fa l'upload dei file delle classi Java delle dipendenze su Raspberry. Quindi qui c'è tutto questo processo di uploading, fino al 100%. A questo punto fa il build. Ha solo copiato i file, le dipendenze, i file. A questo punto fa il build, fa il kill del progetto, nel caso in cui il progetto sia, del processo, nel caso in cui il processo sia attivo sul server. e essenzialmente fa il build di tutte le classi con tutte le sue dipendenze. In questo caso, notate che il Raspberry ha un orario che è un milione di secondi nel futuro. Quel numero preciso lì. Di secondi nel futuro. Quindi lui vi avverte non è un problema in questo caso. Se fosse, notate che se l'orario del Raspberry fosse troppo indietro, il browser, soprattutto se navigate pagine su HTTPS, non vi fa navigare perché non riesce a controllare l'orario. Il Raspberry non ha un clock interno. Deve prendere l'orario da un servizio internet. Ma questi Raspberry seppur si collegano a un IPMN Wi-Fi e seppur sono raggiungibili dalla rete interna per accedere a internet hanno bisogno delle vostre credenziali. E quindi non si riescono a sincronizzare da soli all'avvio. Questi Raspberry qua. Se voi posta a casa vostra con una rete Wi-Fi o una rete internet che non richiede credenziali via browser per accedere, ovviamente la sincronia del tempo e della data funziona in automatico. dopo appunto il build se tutto va bene parte il progetto e questa è la stessa esecuzione che voi vedreste sul vostro computer quindi all'indirizzo localhost 4567 solo che adesso il localhost è il Raspberry ovviamente e non il vostro computer. Quindi è partito non dà errore per cui se noi adesso apriamo un browser e raggiungiamo l'indirizzo 172 punto 27 punto 96 punto 160 sulla porta 4567 dovremmo vedere innanzitutto dato che questa è la root e nel nostro task server non c'è una root definita che il server funziona con il server spento non riceveremo niente non riceveremo 404 not found per esempio questo è il rest server e quindi la sua una url che possiamo chiamare è api versione 1.0 tasks in questo caso il server funziona l'elenco dei task è vuoto perché probabilmente non ha copiato il database 9 su 10 direi che può essere quella quindi in questo caso il database è il database su file nella cartella resources e la cartella resources non fa parte di default del build quindi con un database diciamo vero questo problema non capita perché comunque è da installare a parte il database da riempire a parte con un database su file bisogna spostare il file a mano per per verlo funzionare con i dati senza dati ma comunque comunque funziona ok in realtà non è vero che comunque controlliamo se ha copiato il database così finiamo il processo comunque diciamo il il plugin funziona copia tutto esegue tutto ci può essere qualche problema con qualche dipendenza per esempio il database quindi controlliamo cosa è successo 27 96 160 allora come forse riuscite a vedere c'è una cartella che si chiama idea projects dentro idea projects c'è il progetto spark rest che è il nostro dentro ci sono le classi e c'è anche il database allora vedete cosa è successo quindi il database c'è questo file task .db quindi il problema non sta tanto nel non aver copiato il database il problema è che questo indirizzo questo indirizzo JDBC non è più vero perché nel progetto deploy non c'è più una cartella src non c'è più una cartella main non c'è più una cartella resources ma è direttamente è direttamente tasks.db quindi modificando l'url in questo file di configurazione diciamo in cui si dice aprite il database su file ed eseguendolo nuovamente da remoto tutto dovrebbe funzionare ok tutto abbastanza sufficientemente chiaro ora l'obiettivo della rimanente ora abbondante è farvi sperimentare con rosberry visto che la larga parte di voi non l'ha mai utilizzato quindi l'esercizio se vogliamo chiamarlo così è provare a rifare quello che abbiamo appena fatto in adesso ma non utilizzando lo spark server che è quello che abbiamo quello che ho appena fatto io ma utilizzando a vostra scelta uno degli altri tre progetti o un progetto che avete voi è uguale uno degli altri tre progetti che abbiamo fatto durante il corso o uno dei progetti di nuovo java che avete voi utilizzando questo stesso meccanismo o se preferite copiando a mano tutto e compilando direttamente sul rosberry ma giusto per provare a sperimentare capire provare a collegare il rosberry al computer e utilizzarlo vi ricordo che in teoria il vostro progetto di fine corso la parte diciamo relativa alla stazione del treno dovrebbe girare su un rosberry quindi ecco perché adesso proviamo con rosberry il rosberry come avete visto per accenderlo ho collegato la corrente per spegnerlo c'è dall'interfaccia grafica il bottone di shutdown si può fare shutdown da linea di comando ma si può anche fare così non soffre a differenza di un computer desktop quindi adesso ogni gruppo visto che avete già formato i gruppi può venire qui prendere un rosberry un alimentatore un cavo hdmi nel caso vogliate collegarlo al monitor un adattatore da hdmi a dvi perché questi monitor non hanno la porta hdmi e potete utilizzarlo via ssh oppure staccando mouse e tastiera dai pc fissi con l'accortezza di riattaccarli prima di andare via se no il tecnico ci sgrida dicevo ogni gruppo venga a prendere un rosberry e possibilmente si segni il numero del rosberry che ha preso così può sempre utilizzare quello anche in futuro grazie a tutti